Dopo essersi già tagliati il 50% dello stipendio senza essere imitati da nessun collega, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle tornano alla carica contro gli indegni privilegi della casta politica, presentando una proposta di legge regionale che vieti il cumulo dell'assegno vitalizio regionale con altri analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo della Repubblica Italiana di consigliere o assessore regionale, un provvedimento con effetto retroattivo che consentirebbe alla regione Abruzzo di risparmiare non meno di 500 mila euro l'anno. Nel paese che ha creato gli esodati e che vede milioni di persone in difficoltà, ha detto Sara Marcozzi, prima firmataria, non è più possibile accettare che una casta di politici con pochi anni di contributi percepisca un doppio vitalizio da migliaia di euro. Solo nel 2015 la regione Abruzzo ha sborsato oltre 4 milioni 230 mila euro per onorare un privilegio destinato a una lista di 152 fortunati con un vitalizio medioanno di 27 mila euro a politici e coniugi, visto il diritto di reversibilità riservato a questi ultimi in caso di decesso dell'avente diritto al vitalizio. Cifre che ovviamente variano a seconda degli anni di presenza in consiglio regionale e che per alcuni fortunatissimi ex consiglieri superano i 60 mila euro annui. Una seconda categoria è composta da 31 politici, alcuni di loro attualmente presenti in consiglio regionale e in Parlamento, che non hanno rinunciato a questo diritto e che al compimento del sessantesimo anno di età potranno usufruire di questo enorme privilegio, una disparità di trattamento tra cittadini comuni e politici non più sostenibile, secondo Sara Marcozzi. L'equità sociale va garantita e ritrovata anche attraverso l'approvazione di questo tipo di provvedimenti. Questo è un paese in cui un politico che ha svolto due mandati, ad esempio uno in Parlamento ed uno in regione, percepisce per aver versato pochissimi anni di contributi due vitalizzi. Con questa legge aboliamo il vitalizio da parte della regione e ristabiliamo un po' di equità in quel paese che vede tante categorie di cittadini lavoratori sfortunati, penso ai disoccupati e agli esodati. E a chi è pronto ad avanzare le solite obiezioni sul principio del diritto acquisito e sui rischi di costituzionalità, si fa sapere che la regione toscana ha da poco approvato una legge con gli stessi contenuti che non è stata impugnata dal governo e che anzi ha ottenuto il parere favorevole della Corte Costituzionale.